Un saluto a tutti gli amici di Top Planet. Come ogni 29 maggio, più che parlare di calcio, il mio pensiero va solamente ai 39 vittime delle S.L. 39 vittime morte in una serata che doveva essere una serata di festa, una serata di gioia, una serata attesa da tanti anni con la nostra Juve in finale di Champions League, anzi all'epoca Coppa Campioni. Una serata che mi ricordo pure io, che all'epoca avevo 15 anni, attendevo con una frenesia incredibile. Il tutto però fu sciupato da quella tragedia immane che non doveva assolutamente verificarsi. Tra queste 39 vittime c'erano anche due miei concittadini, Conti e Lorentini, il che fa ancora di più avvicinare a me questa tragedia, ripeto, una tragedia assurda. Tutto ciò non doveva assolutamente accadere. Che dire, con questo, ragazzi, ricordiamoci sempre che il calcio è un gioco, un gioco che deve unire. Sì, lo sfottò, la presa in giro, anzi, il sale proprio di questo sport, però deve finire lì e queste tragedie in questo modo non dovranno mai più accadere. Con questo, ragazzi, vi saluto, sempre più 39 e fino alla fine Forza Juventus!